A San Martino della Battaglia parte la 35esima festa del vino del gruppo sportivo di San Martino. Anche l'assessore Giustacchini qui per la presentazione per questa festa importante di una frazione molto importante per Desenzano. Sì, una festa che è veramente diventata un pilastro all'interno della programmazione della nostra città. Un momento importante, si inizia l'11 di agosto come ogni anno e devo dire che questa festa è anche il momento per molte famiglie che negli ultimi anni si sono venute ad insediare la nostra frazione che diventa sempre più popolosa. Un momento per socializzare, per conoscere i nuovi vicini, per riuscire ad integrarsi in un territorio, in una comunità come quella di San Martino. Il ringraziamento quindi va al gruppo sportivo che quest'anno compie 44 anni di vita, di vita intensa, quindi ringraziamento a tutti i volontari che anche quest'anno faranno un lavoro enorme per garantire la perfetta riuscita della festa. L'amministrazione naturalmente ha contribuito e ha sostenuto questa bella iniziativa e il mio ringraziamento per il gruppo sportivo va non solo per l'impegno profuso in questa manifestazione, ma per l'impegno che ogni giorno per tutto l'anno il gruppo sportivo dedica all'educazione dei nostri ragazzi con il gruppo sportivo e con le svariate attività che il gruppo fa durante tutto l'anno. Tra l'altro durante la festa ci sarà anche l'occasione il 14 agosto di inaugurare due nuovi campi di tennis che l'amministrazione ha voluto realizzare e che completano l'offerta anche sportiva di questa bella frazione. Grazie.